Allora amore, torniamo a parlare del nostro compagno d'avventura, che lui quando è nato era già un ex atleta, che oggi ha mangiato due piatti di matasciutta e un panino, una bottiglina d'acqua, due aranci. Allora per tutti i nostri affascinati pazzi andiamo a inquadrare con lui che è ex da nascita. Ciao a tutti! Allora Paolo com'era la fatta? Buona, buona eh? Mandarini, guarda, finita, guarda, due piatti, su sempre tutte e due, guarda la roba, guarda la roba. Mandarini, ti è rimasto nulla? Un'arancia. Un'arancia. E la frutta non ci sente. Giusta no, il panino nemmeno, perché io vorrei vedere chi è che ha mangiato il panino e una mano che si nasconde. Io vorrei parlare chi è veramente a mangiato i panini. Le famose mani che lanciano il sasso e poi si ne ascoltano. Va via, eh? Eh.